Questo portale che oggi viene riconsegnato e reso bello, recuperato, è patrimonio di una comunità ed è una delle ricchezze di arte della nostra chiesa, molto significativa perché è uno dei luoghi più antichi della cattedrale. Si è concluso il restauro del portale meridionale della Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, il più antico e simbolico del Duomo di Arezzo. Fu infatti voluto dal vescovo Guido Tarlati e la sua realizzazione iniziò nel 1325. Era improcrastinabile perché il portale di mezzogiorno, così chiamato, proprio perché vi batte il sole quotidianamente e quindi sia la prea terrenaria, il gruppo scultorio, la fresco, ma anche il portone ligno erano in condizioni che necessitavano proprio di un intervento di manutenzione e restauro. Si è potuto confermare innanzitutto la tipologia anche di tecnica utilizzata soprattutto per il gruppo scultorio che è una matta di coccio-pesto, quindi anche una tecnica molto particolare, soprattutto nel Medioevo e di queste dimensioni probabilmente troviamo soltanto il nostro esemplare di Arezzo. Parte del restauro è stato reso possibile grazie ad Ancos, a contribuire invece al recupero del portone grazie alla braccialini. Ancos ha ci ha dato l'opportunità con la nostra collaborazione, il 5x1000 raccolto da tutti i nostri associati e pensionati di poter rendere ancora più bella e visibile la porta d'ingresso di tutti gli aretini che è la nostra cattedrale. Nell'ottica comunque sia di una rivalorizzazione di quelle che sono poi le opere, il bello della nostra città. Il lavoro autorizzato e seguito sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paisaggio è stato eseguito da restauratori qualificati. La conservazione con la manutenzione, se è possibile eseguirla ciclicamente ogni 3-4 anni, basterebbe andare lì e dare un protettivo a modo che possa andare avanti tranquillamente. E' una parte importante che non viene mai presa in considerazione.